Non è l'approvazione dell'elementamento, perché l'impianto rimane, anche se c'è una volontà, ma noi abbiamo detto, abbiamo aggiunto... Dopo le pressioni del popolo, consigliere, c'è la volontà, se no la volontà non c'era, ci avevano schiacciato cose belle! Ha aggiunto un elemento che l'abbiamo definito, continuare la concertazione, se c'è stata, benissimo, la dobbiamo continuare soprattutto in questa fase, Lorena, che è delicata, che è questa, quando io dicevo è un atto freddo, dove praticamente non c'è stato il confronto, la discussione, va fatta, ci assumiamo tutti le responsabilità, quindi io penso che quella indagine che è stata proposta, perché è lo strumento, ma quello strumento lo dobbiamo coniugare bene, Dobbiamo capire che cosa significa, e lo possiamo fare soltanto abbracciando la realtà rocchigiana Non possiamo capire, e allora io suggerisco, noi non la votiamo, noi non la votiamo, suggerisco di voler votare un attimo, se è il risultato di questa concertazione E quindi invitiamo il sindaco, l'assessore preposto, anche a sospendere tre minuti, stiamo qua, si incontrano con l'organizzazione, con il comitato, esattamente, quello è il problema, si incontrano e si affronta appunto l'evoluzione di questa proposta Soltanto in presenza dei nostri legali oggi in poi Abbiamo scordato il consigliere Paolo Gatto, che ci sia una concertazione giusta e siamo d'accordo, però la votazione dell'emendamento, adesso come adesso, sul bilanio, non è che cambia la delibera di giunta Giusto? Perfetto, quindi quel consiglio non è chiamato ad esprimersi su una delibera di giunta, non è chiamato ad esprimersi su quello Ma avete abbandonato l'aula per solitarietà al cittadino? Ma lo capisco? Ma che non capisco? Ma lei non capisce? Consigliere Gatto, lei che non capisce? Ma che è solitarietà al cittadino? Adesso il consiglio si esprime sulla variazione di bilancio Ancora, l'ho capito, non sto parlando con un bambino Allora, non ci stiamo esprimendo, no? Perché è da chiarire questa cosa Sulla delibera di giunta Noi ci stiamo esprimendo, ci esprimeremo semplicemente sulla variazione di bilancio Quindi noi non andiamo ad approvare la delibera di giunta Perché la delibera di giunta è già approvata Noi andiamo ad approvare il fatto che l'emendamento del Consiglio Rossetti Toglie la posta in bilancio su quelle che erano previste le entrate per l'indennità Basta su quella delibera, la politica della giunta, non il Consiglio Comunale Allora, davanti al popolo si esprimono in questa maniera Consiglio Rossetti Consiglio Rossetti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non era uno di noi quello che ha parlato, perché noi siamo tutti insieme, ma non è che uno di noi. Non è che uno di noi, non è che uno di noi. Non è specificata la cosa. Non è che uno di noi. Le diamo le mani dentro al Consiglio Comunale? Ho capito, è quello che sta continuando però a insistere, non può replicare i rimpatti da tutti i consiglieri comunali. Quindi vi prego, ricominciamo? Ci mettiamo... Allora, sì, Paolo Gatto ha finito? Allora, dottor Santoro, consigliere Santoro, mi perdoni?